segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te una cosa che sapete già tutti quanti questo non è stato un anno facile per le donne del resto neanche quello prima e neanche quello ancora prima allora volevo dire agli uomini in realtà che molto amo uno per volta perlomeno non abbiate paura di essere anche voi lievi come Sofia mi piace pensare che nessuno di voi qua dentro abbia mai usato violenza verso una donna però a volte anche nelle persone migliori la rabbia peggiora le parole e secondo me è molto possibile che almeno una volta arrabbiandovi con una donna le abbiate dato della puttana in sua presenza o no forse volevate dire o potevate dire egoista stupida insensibile ritardataria sciocca incompetente eppure avete scelto di dire puttana e allora cominciamo dalle parole amate con delicatezza e arrabbiatevi con rispetto ascoltate ascoltatevi ascoltateci perché spesso per essere l'uomo dell'anno ma anche della vita basta essere un uomo gentile siate gentili e non siate folli